Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Icaro TV. Apriamo con la cronaca 1,1 milioni di euro di affitti e compensi professionali non dichiarati al fisco da un geometra 64enne di Cattolica. A scoprirlo la Guardia di Finanza che ha appurato che l'uomo possedeva diversi appartamenti in centro Cattolica e li affittava senza però presentare le dichiarazioni dei redditi dal 2009. L'incrocio dei dati, l'invio di questionari ai clienti del professionista e mirate indagini bancarie hanno permesso di appurare 1 milione 150 mila euro di imposte e 140 mila euro di IVA e vase. Per il geometra è scattata la denuncia permessa dichiarazione che prevede la reclusione da 1 a 3 anni e la confisca per equivalente di beni e disponibilità finanziarie sino all'ammontare dell'imposta evasa stimata in circa 300 mila euro, 260 mila di IRPEF dal 2009 al 2011, 40 mila di IVA nel 2010. Tra i beni sequestrati figurano due conti correnti, sette fabbricati, tre terreni, due auto ed una moto. Siamo adesso alla politica e andiamo a Riccione. Sette assessori, cinque uomini, due donne, per la nuova giunta del comune presentata nel pomeriggio al Palazzo del Turismo. L'insediamento ufficiale con la prima seduta avverrà il 26 giugno alle 9. È stato anticipato invece a lunedì, dopo i fatti di questa settimana, il tavolo tecnico sulla TRC con regione, provincia e comuni. Il sindaco Tosi è pronta a presentare le proprie variazioni al tracciato. Doveva essere un incontro con i giornalisti ma si è trasformato in un incontro con la città o almeno quella parte che ha sostenuto Renata Tosi col proprio voto. Che la presentazione della nuova giunta, due settimane dal ballottaggio, non fosse una normale conferenza stampa, lo si è capito quando all'arrivo del sindaco ad attenderla fuori dal Palazzo del Turismo c'erano decine di persone, le stesse che hanno gremito la sala dove la Tosi ha presentato la sua squadra. Sette assessori, cinque uomini e due donne. I nomi, quelli che circolavano da qualche giorno. L'imprenditore Luciano Tirincanti, 65 anni, vice sindaco e con delega Polizia Municipale, Sicurezza e Attività Economiche. Claudio Montanari, 44enne, consigliere dell'AIA e albergatore, avrà turismo, eventi e politiche comunitarie. Roberto Monaco, commercialista e revisore contabile, si occuperà di bilancio, patrimonio e partecipate. Roberto Cesarini, architetto e animatore del primo comitato anti-TRC, si occuperà di urbanistiche ed edilizia. Il procuratore sportivo Carlo Conti, 40 anni, avrà le deleghe a Sport e De Manio. Susanna Vicarelli, giornalista 49enne, avrà le deleghe ad Ambiente e Sviluppo Sostenibile. Laura Galli, 43 anni, presidente del Movimento per la Vita di Riccione, si occuperà di scuola, politiche sociali e casa. Proprio sul welfare, ha assicurato il sindaco, non ci saranno tagli ma solo investimenti. Altri nomi, Giovanni Bezzi, presidente dell'Istituzione per la Cultura e Luciano Achilli, consigliere delegato alle politiche per la famiglia. Io ho cercato in tutti i modi di rispettare due concetti. Prima di tutto la persona giusta al posto giusto, quindi professionalità e capacità di relazione umane e in seconda battuta la rappresentatività di quello che è il senso civico che questa città ha rappresentato con la mia elezione. A tenere banco a Riccione sempre la questione TRC. È stato anticipato a lunedì il tavolo tecnico previsto il 30 con regione, province e comuni. Riccione chiederà di modificare il tracciato spostandolo su viale d'annunzio senza quindi la necessità di interventi infrastrutturali. Sapevamo che gli eventi attinenti al TRC si sarebbero fatti subito molto imminenti. Non credevo in questi termini ma siamo pronti. Volevamo che si tornasse sui tavoli, che si tornasse a discutere di quest'opera, che Riccione ha da sempre mal digerito. Margini per farlo? Assolutamente buoni. E parliamo anche di sanità. Se i pronto soccorso sono intasati e le attese troppo lunghe è spesso colpa degli accessi impropri. L'azienda sanitaria della Romagna alla vigilia della settimana di sensibilizzazione promossa dalla Società della Medicina di Emergenza Urgenza ha reso noti dati 2013 dei pronto soccorso di Rimini, Sant'Arcangelo e Nova Feltria. Degli oltre 74.000 accessi all'infermi, solo 17.600 erano codici rossi o gialli e quindi pazienti con urgenza di essere assistiti. A Sant'Arcangelo tra i 18.640 accessi i codici rossi sono stati 88 e quelli gialli 1.903. E infine a Nova Feltria, su oltre 7.000 pazienti passati dal pronto soccorso, dal pronto intervento solo 71 sono stati i codici rossi e 1.650 i gialli. Sarebbe importante fare un patto con i cittadini, commenta il dottor Galletti, direttore dell'unità di pronto soccorso delle tre strutture, per arrivare ad un più corretto utilizzo dei servizi che consentirebbe migliore qualità delle cure e attese minori. E in merito alle attese la media lo scorso anno al pronto soccorso di Rimini è stata di poco meno di tre ore. Lunedì pomeriggio a Bologna si svolgerà l'Assemblea dei Soci della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Emiliano-Romagnole, che comprende anche tre istituti riminesi. In vista dell'Assemblea la Federazione ha presentato il bilancio 2013. I timidi segnali positivi fanno i conti con le conseguenze di una crisi ancora pesante. Per le banche di credito cooperativo Emiliano-Romagnole il 2013 è stato un anno difficile che ha fatto intravedere segnali di ripresa, con la consapevolezza però che anche il 2014 sarà impegnativo. Nel 2013 segno positivo per la raccolta complessiva, più 1,96%, con segno più sia per la raccolta diretta che quella indiretta. Calano del 3,7% gli impieghi, anche a fronte di una minore domanda, spesso causata dalla sfiducia, e aumentano del 26,3% le sofferenze. Cala anche il patrimonio dell'1,9%, le 20 banche mutualistiche della Federazione coprono il 78% del territorio regionale. Gli sportelli sono calati di 8, da 374 a 366, in un'ottica però di riorganizzazione rispetto anche a nuovi modi di fare banca. Segnale positivo l'aumento dei soci. A fine 2013 erano 117.234, con un più 3,6%. Anche le banche di credito cooperativo naturalmente soffrono e faticano come tutto il resto del sistema bancario italiano. Forse anche noi abbiamo un problema in più, che siamo quelle banche che anche dopo la crisi abbiamo continuato a sostenere l'economia. Quindi è evidente che la difficoltà della piccola e media impresa dei nostri territori si ripercuota anche sulla banca. Infatti abbiamo una crescita delle sofferenze e quindi anche la necessità di fare accantonamenti a fondo rischi molto consistente. Oggi bisogna che anche la politica, ma soprattutto il sistema Italia, capisca che la cooperazione è un'opportunità, specialmente per i giovani, che sono quelli che si sono allontanati di più. Bisogna che noi lavoriamo per farli avvicinare, perché sistemi o appartenenze alle cooperative dà la possibilità ai giovani di creare forse anche posti di lavoro e oggi un po' risolvere quel problema della disoccupazione giovanile che non è banale in questo paese. Ancora adesso una notizia di cronaca nella notte. Infatti una lite per futili motivi tra tre tunisini si è conclusa con una coltellata. Il ferito, per lui dieci giorni di prognosi, è un 28enne che ha subito un colpo fortunatamente non profondo al collo. Sull'episodio avvenuto alle tre di notte in Viale Regina Margherita a Rimini indagano i carabinieri che hanno già ascoltato alcuni testimoni e analizzato le tracce lasciate sul posto dai due aggressori vicino all'identificazione del nordafricano che avrebbe inferto il colpo. Dal 27 luglio e per due settimane il camp del Barcellona Calcio sbarca a Misan Adriatico nel centro sportivo Santa Monica, un appuntamento dedicato a bambini e ragazzi tra sei e sedici anni che sognano di diventare i nuovi messi. Quest'anno l'iniziativa mette in campo anche una finalità benefica insieme alla Papa Giovanni ed Educade. Abbiamo raccolto circa 100 iscrizioni, che è un numero considerevole, quindi se mi posso permettere lancio un messaggio a chi fosse interessato a partecipare al camp e di affrettarsi perché i camp del Barcellona sono a numero chiuso e quindi quando raggiungiamo il limite massimo purtroppo non c'è più posto. Ad ogni camp, compreso quello di Misano, due ragazzi dei camp saranno individuati dai tecnici della cantera e saranno invitati a partecipare a ottobre e novembre ad una settimana di allenamenti nella Masia, che è la sede della cantera. Una delle peculiarità dei camp del Barcellona, oltre ad avere i tecnici della cantera con noi per tutta la settimana, è quello di lanciare un progetto che si chiama Due Scarpini per un Sorriso. Consiste nel chiedere ai ragazzini di donarci le loro scarpe da calcio, noi le raccogliamo e a fine settembre insieme appunto alla comunità Papa Giovanni ed Educade le porteremo in Zambia e nella striscia di gata. Come diceva Andrea, nasce dalle nostre esperienze in Africa, nella zona di missione, dove i bimbi giocano con i piedi scalzi in campi di terra, di sabbia. In particolare la nostra esperienza di condivisione che si abbina a questa esperienza è quella dello Zambia, dove raccogliamo circa, condividiamo la vita con circa 300 e più ragazzi, ragazzi che già sono ragazzi di strada o che vivono sulle discariche. Per cui diamo un'opportunità a livello scolastico, a livello formativo, esperienze lavorative in modo da accompagnarli all'autonomia, questo va dai primi anni di vita fino ai 20-22 anni. Noi siamo arrivati in conclusione, grazie per averci seguito e come di consueto vi lascio al meteo. Buon proseguimento di serata. Buon proseguimento di serata.